Se l'obiettivo è quello di far crescere questi ragazzi facendoli partecipare alle qualificazioni Under 21, tirata una linea dopo questa partita con l'Olanda, bilancio più positivo che negativo? Sì, per due terze della partita siamo addirittura rimasti in gioco, non si vedeva enormemente questa differenza di età, sicuramente queste partite come quelle che verranno ci aiutano a crescere, ci aiutano a vedere quali sono i limiti sia dei singoli che del collettivo, io mi ritengo soddisfatto anche se abbiamo perso, ma comunque l'intenzione è quella di far giocare i ragazzi di far dare loro le possibilità di avere il più possibile partite internazionali e penso che l'esito della partita sia positivo.